Già decine di persone hanno deciso di far parte della grande rivoluzione del trading naturale Acquistando Skyhook Premium Il composer, il generatore di trading system unico al mondo, rivoluzionario Che permette di creare decine di trading system, centinaia di trading system diversi Su qualsiasi strumento finanziario in pochissimo tempo E questa cosa ha sconvolto gli animi C'è gente che si strappa i capelli Oddio, di qua, di là Ma come fa Skyhook a creare trading system diversi sullo stesso strumento finanziario, sullo stesso time frame? Ho deciso di sbottonarmi e di rispondere finalmente anche a questa domanda Perché? Perché voglio fugare ogni dubbio E lo capisco, lo capisco ragazzi È difficile riconoscere una rivoluzione del genere Lo capisco, è meglio vederlo E lo vediamo insieme in questo video Io sono Francesco Buzzi, trader investitore e founder di Buzzway.it Mi raccomando iscrivetevi al canale Cliccate sulla campanella, andiamo veloci Perché dobbiamo arrivare al clou del video E il 23 scade tutto Skyhook passa a mezzanotte 1 del 24 Quindi un minuto dopo, ok, ci siamo capiti Passa 10.000 euro E finisce tutto Quindi partiamo subito dopo la sigla Quindi come fa Skyhook a essere così potente Da generare trading system diversi Sullo stesso time frame, sullo stesso strumento finanziario Perché? Perché è l'idea di base Che sfrutta la volatilità Non usa filtri E ribalta completamente i concetti Finora acquisiti Questo non vuol dire che il metodo scrocchierello Non funziona più No, no, no È un'evoluzione, è un upgrade Qualcosa in più È tipo Pikachu che si evolve Stavo per dire digi evolve In Pikachu Beh, non mi ricordo Ci siamo capiti Pokémon, ok È un'evoluzione Non sostituisce niente È in più Se volete fare qualcosa in più Allora conviene Beh, la spiegazione è proprio sull'idea Ovviamente non vi posso spiegare l'idea Perché l'idea spiegata nel dettaglio Ce l'hanno solo i trader premium Che sono già dentro All'offerta, tutto quanto Hanno già fatto accesso Incredibile informazioni Quindi ve lo dimostro Vi faccio vedere che cosa succede Io, prima di questa registrazione Ho fatto partire 11 ottimizzazioni Su 6 grafici Su Crude Oil Daily Dal 2010 E ho lanciato lo stesso Skyhook Ok? Lo stesso Skyhook Perché ho detto 11 ottimizzazioni Se sono 6 grafici? Beh, perché non sempre l'ottimizzazione ci aggrada Può essere che Skyhook restituisca Un equity line che non ci piace Rilanciamo l'ottimizzazione E andiamo alla ricerca Della soluzione migliore Senza alcun problema Qual è la soluzione migliore? Sceglietela voi Sceglietela voi, signori Questo è il numero 1 Siamo a 142 143 mila dollari Ovviamente avere stretto 308 Non lasciamo perdere 235 Equity line numero 2 Equity line numero 3 Equity line numero 4 Equity line numero 5 Equity line numero 6 So se è chiaro il concetto Stesso Attenzione, aspetta Stesso Ok Stesso time frame Stesso strumento finanziario Non vi posso far vedere l'input Ovviamente Diverso sistema Questo è Skyhook 1 Skyhook 2 Skyhook 3 Skyhook 4 Skyhook 5 E ma lo Che poi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Va bene E ma il 5 non mi piace Perfetto Riparti Fai ripartire l'ottimizzazione Vediamo Facciamolo insieme Nascondo un attimino qua Perché devo ottimizzare E i parametri Non li potete vedere Tac Parametro 1 Parametro 2 74 35 Tutto segreto Se volete i segreti ragazzi Dovete entrare a far parte Del club dei premium Ok Fatto Posso mostrarvela Facciamo partire l'ottimizzazione Ovviamente Su base daily Per una questione di velocità Tutto qua Da questa ottimizzazione Può uscire Può non uscire Non ci importa L'equity line Che però uscirà Sarà differente Perché? Perché l'idea di base Ribalta i concetti di natura Noi del trading scocchierello Per principianti Classifichiamo i trading system In naturali Costruiti Forzati Sfruttiamo la natura Per poi andarla a forzare Noi creiamo trading system Forzati Quindi Trovando Aspetta Ripeto Noi Troviamo Diverse nature Sullo stesso Time frame Quindi Ci troviamo Dei trading system Forzati Quindi tutti diversi Tra loro Che aumentano La diversificazione Ma Incredibilmente Robusti Cosa vuol dire? Non si romperanno mai No ci mancherebbe Prima o poi si romperanno Magari anche Ma il tasso Di probabilità Di rottura È più basso È come un naturale Non è come un forzato Ma è come un naturale Il trading system Qua L'ottimizzazione È finita Prendiamo Il primo risultato Per net profit E vediamo Se va bene Prendere il primo risultato Per net profit O per Infatti Forse è meglio Prendere questo Il secondo risultato Zac Punto Basta E l'equity line Diversa Questo ha 302 Di average trade Quello di prima Aveva 253 Ci piace? Non ci piace? Non ci piace? La facciamo ripartire O ne scegliamo un altro Magari un altro risultato È quello che ci piace di più Possiamo prendere Ad esempio Ma come faccio Francesco A scegliere il risultato? Non ti preoccupare Perché C'è il tutorial In cui ti spiego Tutto quanto Nel momento in cui Fai accesso A Skyhook Premium Ok? Nulla è lasciato Al caso Signori miei Questa curva non ci piace? Beh lo capisco È normale Prendiamo un altro Sono tutte curve diverse E possiamo rilanciare In questo caso Vi dirò Io non prenderei nulla Io la rilancerei Rilanciamola Ok? Quindi abbiamo la prova La prova provata Che Skyhook Sullo stesso time frame Sullo stesso strumento finanziario Genera Equity line Completamente Diverse Uno dall'altro E ognuno Può scegliere Quello che ci pare Ti piace più la uno? Scegli la uno Ti piacciono tutti e sei? Avrai sei sistemi Diversi Sullo stesso strumento finanziario Cosa mi servono? Sei sistemi diversi Sullo stesso strumento finanziario Sullo stesso time frame Intanto sono diversi Sono decorrelati E poi Se hai un portafoglio Di 500 sistemi E ne puoi tradare Solo dieci Quei dieci saranno Il non plus ultra Saranno Il meglio Del meglio Della crema Perché accontentarti? Se ne fai 20 E ne puoi tradare 10 Ti devi accontentare Perché magari non sempre avrai I trading system migliori Così avrai Sempre trading system migliori Spero che questa dimostrazione Di potenza Della rivoluzione Incredibile Di Skyhook Ti abbia fatto scattare il trigger Dubbi, domande e perplessità Info Chiocevabazzuai.it Numero verde 800 475 300 Ammetto Che il team È preso Ultimamente è preso Addirittura Homer è arrivato a dire Ti richiamo dopo Mi ha mandato un messaggio apposta È la prima volta che dico Ti richiamo dopo A un cliente Perché era un attimino bombardato C'era Un accavalamento di robe Però ci siamo Il team È a tua Disposizione Quindi chiama Ora L'800 475 300 Il 23 giugno Scade tutto Ciao Non c'è più niente A Skyhook a 10.000 euro Oh lo vendiamo lo stesso Però a 10.000 euro